questo video riguarda i migliori 3 mini cyclette per allenare il vincitore della qualità nel nostro mini cyclette per allenare va alla gm mini cyclette mani o pedali con spallacci regolabili questo pedaliera è progettato per esercitare braccia e gambe migliorare la forza muscolare e mantenersi in forma visualizzazione scansione tempo distanza giri per esercizio giri totali e consumo calorico peso massimo utente massimo 100 kg volano 2 kg resistenza regolabile manualmente il design compatto lo rende leggero e portatile per riporlo facilmente su un tavolo o uno spazio simile ogni pedale dispone anche di una superficie antiscivolo con impugnature sagomate e passanti regolabili per maggiore comfort e facilità sicurezza allenamento personalizzato con resistenza regolabile intensità facile da regolare con manopola il funzionamento del pedale è molto semplice perfetto per esercitare gambe e braccia la nostra macchina per esercizi elettrici è realizzata con un telaio in acciaio resistente e le pedivelle garantiscono una lunga durata i pedali possono essere azionati avanti o indietro puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video l'alternativa è il limali f bike combinato con l'esercizio del braccio e della gamba dalla resistenza multilivello regolabile questo mini allenatore della bici può mirare a fornire il livello differente che esercita per addestrare il vostro gruppo muscolare che vi dà l'effetto migliore per tenere la misura l'esercitatore del pedale con la resistenza regolabile che gira voi può fissare la resistenza differente del livello secondo i gruppi differenti grado differente di esercitazione della difficoltà per il periodo differente di esercitazione il monitor lcd multifunzione visualizza il tempo il conteggio le calorie e la distanza inoltre include una funzione di scansione che può mostrare tutte le misure in sequenza ti fanno conoscere il tuo viaggio di esercizio più facilmente con un design compatto dimensioni mini 41 per 32 x 19 centimetri peso 4 kg è possibile allenarsi ovunque in qualsiasi momento come casa ufficio anche fuori non limitato per tale piccolo corpo i mali pedal exerciser con tutti gli accessori in dotazione in pochi minuti e senza chiedere alcuno strumento il pedale antiscivolo e il piede della bicicletta antiscivolo forniscono un ottimo fissaggio e non scivolerà durante l'esercizio puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video il vincitore della performance premio nel miniciclette per allenare è il uten pieghevole questo ciclista sportivo a pedali pieghevole è appositamente progettato per l'allenamento di braccia e gambe può fornire esercizi per la parte superiore e inferiore del corpo morbidi e a basso impatto per migliorare la forza muscolare e la coordinazione e mantenere una figura uten pieghevole pedal exerciser è ideale per tutte le età come officinistas anziani convalescence e persone che non hanno tempo per andare alla palestra questa pratica mini exercise bike si può utilizzarlo mentre guardare la tv giocare al telefono o leggere i libri questa ciclette pieghevole viene con display lcd che mostra quattro valori chiaramente durata del tempo di allenamento calorie bruciate cicli e giri al minuto rpm e calorie bruciate e comprende anche una funzione di scansione che mostrerà tutte le misurazioni in sequenza il dimensioni portable 49 centimetri x 36 centimetri x 24 centimetri le gambe si piegano per facilitare l'archiviazione e il trasporto le cuscinetti di gomma antiscivolo e le migliori evitano i scivoli durante l'allenamento la ciclette è fabbricata di una struttura in acciaio durable e i braccia di manovella assicurano una lunga durata i pedali possono operarsi verso avanti o indietro se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento